uno ha tirato prima ma io c'ho la truncia in tutto va ehhh ehhh ehi ehi quanti cazzo siete ehhh ehi 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 si sono levati almeno e grazie al cazzo che ci sono sollevati no e vaffanculo e grazie al cazzo che ci sono no 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 oddio ben coronato qua adesso il potere è arrivato a me ok sono pronto vedremo che sapete va grazie a saldare sono pronto attenzione gas in avvicinamento procedere alla zona che discusa che discusa che discusa me lo il miglione lo butto a blu qualcosa mi ha infettato non è un down che sta al camper che è co hanno bussato oh c'è sto non è un'altra ma hai capito che cosa oh si ha fermato gente oh passi ma non vedo niente chi ha preso ieri ero sopra lo stupro eccolo lo vedo corre qui sopra guarda gli attacco gli spostati ho trovato la soluzione zitto zitti è morto falle io vorrei che il meritore viva con me sai come si divertivamo ti facevo piar vizietto lo devi allar culo ma perchè devi essere così brutale ogni volta vabbè non è certo non si staccava più ridiventava bambino con sculcio ridiventava si dovevi fare con i cani quando si appiccicava la gamba e il tacca si ogni volta sentiva un minuto e lei va a dare il cazzo ma tu non lo tiri non lo tiri e sentivi solo hai tirato ma che cosa non ce l'hai ma che vai ma come no ce l'hai ho preso la cassa di munizioni ce l'hai ho preso la cassa di munizioni ma è stupido ce l'ho ce l'ho ce l'ho scusami mamma mia ragazzi ma quando sei nato ma fai scusami e il copino del testo è un po' per la polesta un salto il cazzo il cazzo il sole oggi spende il sole è un po' per la polesta è un po' per la polesta fermi oh Asker ma che cazzo ce l'ho devi da fare vaffanculo ma il santo dura sto qui ma come è che è rimasto buggato il ping sopra che spettacolo voraccio abbiamo buggato il ping guarda 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 vai dai bene il nuovo hacker abbiamo capito che si prova sta a posto sta a posto sta a posto tu sta a posto ma no ma questo è importante allora cimitero c'ha due sulla sua spalla sulla sinistra c'ha un cimitero sulla destra c'è un altro cimitero che parla capisci quello di sinistra dice fammi vedere un po' questo video quello di destra che cosa fa gli riesce subito ma è inutile che te lo guardi perché ci sono le strane cose fratello e mi dà le pacchette e mi dà le pacchette e quello di sinistra continua a fare cimitero vatti a vedere il video vedi vatti a vedere il video sono tutti pro gamer e poi c'è sta cimitero quello di mezzo quello che c'ho mezzo nelle gambe lo sai che dice quello caso strano sto unico car of duty dove si può abusare di cheat questo è pieno di record di ogni entità di ogni entità su tutti gli altri code record di sotto casa su tutti gli altri code e sono usciti tutti con warzone i pro gamer tutti con warzone questi a cioppe di 4 proprio che fanno i video 60 70 kill 80 kill però ti faccio una promessa meritore e lo sai che io la mantengo sui giochi che ti faccio vedere te lo sto promettendo meritore vedrai anche cimitero che fa un record mondiale ci scommetti che lo faccio io questo record mondiale ti faccio il record mondiale meritore ti faccio vedere cominciò a fare 6-7 kill solo nel drop e questa è una promessa e questa è una promessa voglio vedere cosa dice la gente non hai colpi non hai colpi non ci sono problemi e vattene a fare il culo ma che stavo a fare il culo davvero da questi quattro scemi tutti con grazie al cazzo con sto code escono fino a ieri parco due tre video due stranieri un italiano per pulsa tutta la grafica sgranata su warzone tutti i fenomeni sono diventati non c'è eh tocca ristartare dovevamo essere già 24 kill ho sentito uno scricciolio eh raga mi sa che dentro al bunker c'è sta gente ragazzi ma penso che ti aspetta qualcuno per cose ci stanno veramente mi piscio sotto questo bunker eh che ho sentito mi dava che struscia certo senso oh oddio 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 tienilo tienilo oedooe oddio oddio il sul quarto è qua non si vede mi pare che lo fanno in live non lo so ciò chiaro ciò chiaro 15 video che ti chiede a 4 time così quello è buttato no no eh non ho sentito uno qua le cazzette bello sdraiato assaggiamo che non è vero se sei orale ahah ahahah 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 cittife veve lo chiuso dentro no 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 chiudilo dentro aspetta lo chiudiamo dentro questo se lo teniamo qua tutta la partita un po' più scivolo se gli tiri la smoke gli faccio l'esecuzione capito finato finato dal tetto di là mi sparano ragazzi sono un po ma non ci riesco da solo venite a darmi le mani dal tetto di là dò le colle perché non capisco quindi dico qualcosa a casa tu dove sei il tuo spali oh ragazzi ho tutto ciecato non ho messo ho messo troppo conci quattro già messo e vattene affanculo schifo da te merda tutte trappole ma chi sei soffro tu sei un idiota io sono iota io sono iota tu sei un idiota ardu è da vedere il lago scuro cosa dal te venere tu sei yuk skywalker no eh si anzi sei giappa lui è giappa giappa anzi è qui così del deserto troppo che è dai e mannaro io te e ce imparo senti i vacchi li prendi e li fraccacci E vaffanculo